siamo alla maresana a due passi dalla sede di polini per il primo saggio del ep3 plus ep3 plus è proposto in due versioni ep3 plus con 75 newton metri di coppia massima ep3 plus mx dotato di 90 newton metri coppia massima la prima è stata pensata più per utilizzi road la seconda mtb il motore è compatto e leggero cinque livelli di assistenza che aumentano rispettivamente del 30 per cento 60 per cento 120 per cento 250 per cento e 400 per cento la potenza espressa dal biker cinque anche i profili disponibili tre prestabiliti e due custom touring è la mappatura più risparmiosa dynamic aggiunge brio alle prestazioni senza eccedere nei consumi mentre race assicura prestazioni elevate senza compromessi i tre profili prestabiliti sono selezionabili in modo intuitivo attraverso il comando remoto che visualizza sul display da 2,5 pollici schermate ben leggibile in attesa di poter scaricare l'app dedicata alla gestione dei due profili custom che sarà disponibile a partire dall'autunno 2021 e permetterà di configurarle secondo le proprie esigenze il pur breve test ha evidenziato le grandi potenzialità di questa drive unit ma anche la sua versatilità inoltre il motore risponde in modo preciso alle solicitazioni del biker la sfasatura tra inizio o fine pedalata e l'erogazione dell'assistenza è davvero impercettibile allora Grazie a tutti.